Sembrava un giorno come un altro qui nella mia città, eppure tutti eravamo in attesa di una risposta. Una risposta che avrebbe deciso le sorti dell'intero universo. Glitter sarebbe uscita con Cosmo oppure no? Beh, non ci si ancora, sta decidendo, ma siamo felici del fatto che Daisy abbia detto a Nobu che è lei quella a cui piacciono le ragazze e non Marine. Sì, finalmente i ragazzi possono tornare a corteggiarmi. Grazie per quello che hai fatto, Marine. Mi hai fatto capire che non avevo nulla da temere, che... Ho sbagliato, siete le mie migliori amiche, avrei dovuto dirvelo subito. Beh, più che altro perché ti avremmo aiutato, però tranquilla, capiamo la situazione. Dunque, qui c'è un Claudio, ma non vedo Nebula. Eh, eccola lì, c'è un Nebula! Ciao Candy! Buongiorno ragazze! Buongiorno Nebula, oh, te lo dico da ora, sei super invitata al mio piscina party! Hai un bel costume, vero? Ah, io ti ringrazio Marine, ma non penso di venire a un piscina party. Perché no? No, ecco che devo studiare, ho tantissime cose da fare... E non ti piace farti vedere in costume? E... Detective Candy capisce tutto! Oh, andiamo Nebula, forza, saremo tutte insieme! Put your hands up in the air! E nell'acqua quando è bella! Ma sì, Nebula Candy ha ragione, tranquilla, ci divertiremo un mondo, non è una sfilata! Va bene, d'accordo, vado a prendere troppe... Quella ragazza si fa troppi problemi! Sì, e poi c'è, non puoi capire... Ciao Nebula! Oh, ciao! Oh, caspiterina! Nebula! Eh? Oh, accidenti, aspetta, ti aiuto! Oh, grazie, grazie, Claudio, grazie! Perché non guardi dove metti i piedi? Sì, hai ragione, Melanie, non si aveva mai pensato a questa cosa! Oh, evidentemente sa qual è il suo posto! Al nostro cuspetto! E' arrivata la regina! Se volevi fare una battuta, Blair, sappi che è uscita pessima proprio! E ti dirò un'altra cosa! Le cadute dall'alto fanno ancora più male! Anzi, la gente proprio si spappola! Ah, io vado, Melanie! Sì, meglio che vada anch'io! Aspettatemi! Scusa, la Nebula, io non capisco perché si comporta così! Devi sapere che prima Melanie era proprio come te! Che? Melanie? Come me? E come ha fatto a diventare così? Sì, è vero, anche Melanie balbettava e non faceva altro che inciampare! Ma davvero? No, voglio assolutamente diventare come lei! Ma neanche per sogno! Cioè, oddio! Se prestassi un po' più di attenzione a dove cammini, sì, sarebbe una cosa bella! Però Melanie ha proprio abbandonato tutto quello che era prima e questo non va bene! Tu, tu sei speciale così come sei, Nebula! Però sì, presta attenzione a dove metti i piedi! Sì, Nebula, è quello che dicevo anche a Melanie! A me piaceva tantissimo come era prima! Adesso non la riconosco più! Oh, mi dispiace, Claudio! E vabbè, è andata così! E in tutto ciò dov'è Glitter? Oh, credo sia con mio fratello! Finalmente può dargli una risposta! Tu, tu sai cosa ha deciso, Candy? No, anzi è successa una cosa molto strana su cui appunto stavo indagando! E un po' di Johnny che non vuole parlare di questa faccenda e non capisco perché! Perché prima non faceva altro che chiedermi aiuto, Candy cosa devo fare, secondo te cosa devo rispondere, parliamo un po' e bla bla bla, adesso più niente! Infatti, adesso andrò dall'unica persona in grado di aiutarmi! Chi? Il miglior amico di Mike! Che guarda caso, guarda caso, è il mio fidanzato! Ecco fatto! Ti piace? Hm? Bene! Jimmy! Pasticcino mio! Oh no! Candy, quando mi chiami così è perché... Devo istorcerti informazioni sensibili date dal tuo migliore amico Mike, sì, esattamente! Candy, ma così dovrò violare la regola numero uno dei migliori amici! Mai dire agli altri propri segreti! Hai ragione! Mike ti ha detto, mi raccomando, questa cosa è un segreto, quindi non dirla a nessuno? Ehm, no! Perfetto! Allora non sei vincolato alla regola del segreto! Dimmi tutto, dimmi pasticcino! Lo dico solo perché... Perché per me non è una cosa corretta quella che ha fatto Mike e magari voi potreste aiutare Glitter e forse anche Mike! Quindi Mike ha davvero fatto qualcosa! Dicci tutto, Jimmy pasticcino! Beh, ti ringrazio, Glitter! Sei una persona davvero speciale ed anzi, ora mi piaci anche di più! Che cosa? Ma ho appena detto che non posso uscire con te, cioè non sarebbe giusto? Perché stai soffrendo ancora per mai che vuoi rispettare i miei sentimenti? Ed è molto nobile da parte tua, Glitter! Rispetterò questa decisione, ma sappi che non mi arrenderò! Dovrai dimenticarlo, prima o poi! Ah, bello spero! Glitter! Candy! Oh no! Cosmo è già andato via! Che cosa gli hai detto? Che cosa gli hai detto? Che non posso uscire con lui finché... Penso ancora a Mike, ci sto ancora molto male per lui! Mike, ti ha detto una bugia, Glitter! E sappiamo quanto la tua decisione sia stata condizionata da quello che ha detto! Assolutamente no, Candy! Poi, se avessi detto di sì solo perché Mike usciva con un'altra, allora... Sì, sarebbe stato un problema e a quel punto l'avrei fatto solo per ripicca! Ma quando Mike mi ha detto quelle cose, ci sono stata male, ho capito che... Se ci sto così tanto male, allora... Non sono pronta ad uscire con un altro ragazzo! Oh, questa cosa mio fratello l'apprezzerà tantissimo! Sì, infatti lui è stato super gentile! Oh, mi sono già pentita di quello che ho fatto, Candy! Potevo uscire con Cosmo! Avevo uno sguardo così dolce! Oh, io invece sono molto fiera di quello che ho fatto, amica mia! Brava! 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 Bene, Glitters, il nostro episodio finisce qui! Speriamo tanto che vi sia piaciuto! Secondo voi, Glitters ha fatto bene a dire di no a Cosmo? Fatecelo sapere in un commentino su Instagram! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!